Interdetta alla zona antistante l'ingresso delle grotte di Polla, una decisione che è stata ufficializzata nelle scorse ore con apposita ordinanza a firma del vice sindaco reggente Massimo Loviso al fine di garantire la pubblica incolumità. Nei giorni scorsi infatti l'ingresso delle grotte è stato interessato da un vasto e preoccupante incendio con notevoli difficoltà riscontrate dagli operatori in campo per lo spegnimento delle fiamme che si sono trovati a dover intervenire in una zona particolarmente impervia, un fatto che preoccupa la comunità pollese dato che l'area è particolarmente frequentata essendo anche sito turistico e in considerazione soprattutto dell'approssimarsi della stagione delle piogge. Il ruogo verificatosi sabato scorso infatti ha distrutto gran parte della vegetazione che come è noto è utile a mantenere la stabilità dei terreni. Nel momento in cui le fiamme distruggono il verde vanno a danneggiare e rendere fragili anche le radici che a quel punto non hanno più la forza di mantenere fermo il terreno in caso di forti piogge. L'aria interessata dalle fiamme a polla si trova a ridosso della strada e nelle vicinanze sono presenti anche numerose abitazioni. I timori di frane sono quindi reali con rischio anche per le famiglie dei residenti e per quanti si possono trovare sul posto. Da qui l'ordinanza del vice sindaco reggente trasmessa anche al prefetto di Salerno. Nell'ordinanza è fatto di vieto assoluto a praticare i luoghi antistanti la grotta di polla come delimitati da appositi blocchi di cemento posizionati dall'ufficio tecnico comunale così come è stato disposto il divieto di percorrere il sentiero pedonale nei pressi della grotta. Inoltre è stato deciso il restringimento della sede stradale in via rotabile Sant'Antonio in corrispondenza della grotta di polla con adeguata segnaletica di preavviso agli automobilisti nei due sensi di marcia che verrà predisposto e fatta porre di intesa tra l'ufficio tecnico comunale e la polizia municipale. Nell'ordinanza si invita anche la popolazione per i prossimi 30 giorni ad allontanarsi dalle proprie abitazioni in caso di pioggia torrenziale e ad avvisare la protezione civile nel caso in cui vengano accertati casi di caduta massi o fango.